Buongiorno, eccoci con il nostro solito appuntamento di Tena Sport andiamo con il lavoro numero 6, quindi settimana numero 6 Warm up, facciamo un riscaldamento un pochettino più dinamico abbiamo soltanto due esercizi, jumping jack e squat push up in pratica bisogna fare 15 ripetizioni di jumping jack e poi iniziare con lo squat push up lo squat push up si inizia con 10 ripetizioni finite le 10 ripetizioni torniamo sul jumping jack e andiamo di nuovo su squat push up a scalare di 2 ripetizioni 8, ricominciamo jumping jack sempre 15 come vi ho scritto e poi squat push up ancora si scala a 6 ripetizioni così via fino a fare 2 soltanto ripetizioni di squat push up ok quindi 15 jumping jack poi mi metto in posizione squat scendo giù con c'è le mani cammino all'incontrata e mi lascio andare giù piano piano mi spingo piego le ginocchia e torno su e ancora ok si scende a terra spinge e si ritorna quindi l'esercizio del comanda è il secondo dobbiamo arrivare a fare due ripetizioni ricordatevi di scavarne due alla volta grazie a tutti